Siamo su via di Burtina, a due passi da De Matteis in pieno centro, ma nello stesso tempo in una posizione strategica, tranquilla, immersa nel verde. Vi proponiamo la vendita di questa struttura in cemento armato in fase di costruzione su un lotto di 3.500 metri quadri. Qui puoi rifinire la villa dei tuoi sogni, parliamo di una struttura monolivello, unifamiliare, di 130 metri quadri, oltre il portico, che è questo che state vedendo in questo momento, di 30 metri quadri circa, oltre il balcone che gira tutto intorno. L'immobile è in fase di costruzione. Nel prezzo che vedete pubblicizzato verrà fatto anche il massetto e il cappotto esterno. Il resto, quindi infissi esterni, porte interne, rifinitura dei bagni e pavimentazione, sono a carico dell'acquirente. Gli impianti sono stati già fatti, sia quello elettrico che quello idraulico. C'è anche la predisposizione per l'impianto di allarme e l'impianto di aria condizionata. Questo che vedete tutto intorno è il terreno di proprietà. E il balcone, i 77 metri quadri circa di balcone, che gira tutto intorno. Rientriamo nel salone e passiamo nella zona notte. Il primo bagno, finestrato, la camera da letto matrimoniale, la seconda camera, l'altro bagno, il secondo e la terza camera. Come vedete ogni stanza accede al balcone perimetrale. Questo che vedete è tutto il terreno di proprietà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.